Ciao, mi chiamo CP e voglio raccontarvi le mie avventure e quelle dei miei amici. Buon divertimento! È primavera e mamma passerà felice come le sette uova. Un bel giorno le uova si schiudono ed ecco che nasce un basterotto di nome CP. CP è molto irrequieto e saltellando in giro per il tetto cadeva il comignolo. Viene catturato dai bambini, per fortuna si libera subito. CP impara a volare, è curioso di scoprire il mondo. Specchiandosi nell'acqua, cade nel fiume, lì conosce Margherie. La sua curiosità lo porta ad avvicinarsi all'animale coi baffi e gli artigli invisibili. Il gatto lo aggredisce e gli strappa le piume della coda. I passerì mangiano i chicchi nel campo di grano, però vedendo avvicinare il contadino con il tubo lucente scappano, ma CP, ongurante del pericolo, convince i suoi amici a restare e il contadino spara verso di loro. CP si occupa di passerì, rimasta ferita dagli spari del contadino. Un pochino si sente responsabile per la sua sofferenza. CP e passerì, innamorati, decidono di costruire il nido sull'angolo del tetto. CP e passerì presto diventeranno papà e mamma. A settembre, le volte CP e passerì si chiudono. CP vola a dare la bella notizia alla sua amica, ma trova Margherie morenda in riva al fiume. Tutti piangono alla loro amica, GP, il sole, il fiume. GP non sa se essere triste o felice. Arriva l'inverno, i passerì hanno fame. Alcuni finiscono nella trappola dell'uomo. Per fortuna, GP ha imparato ad essere prudente e non gade nella sua trappola. GP non sa se essere prudente e non gade nella sua amica. GP no sa se essere prudente e non gade nella sua amica. Grazie.